ladies and gentlemen dal liceo di Orvieto sono loro sul palco si stanno per esibire ma il primo minuto verrà dedicato al loro soundcheck avete 60 secondi per fare il soundcheck un grande applauso per questi giovani guerrieri direttamente dall'Umbria un grande applauso per questo il nostro canale è stato un grande applauso per questo il nostro canale è stato un bellissimo ma non è stato un grande applauso per questo non ci credo è stato un grande applauso per questo Sì, 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 sì. and it made you not from one 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 let's pick all that is you and it takes more no 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 it makes you pray and you can't be my I 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 Sio siedi I don't care Sio siedi Sì, 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 sì E si alza la ola dei compagni e di tutti gli amici